Il nostro viaggio alla scoperta del Viterbese inizia proprio a Viterbo, il capoluogo storico dell'Alto Lazio, l'antica tuscia romana. Una città dalla storia antica e complessa, le cui vicende comunali si intrecciano strettamente con quelle del papato. Qui, infatti, si trasferirono e morirono molti grandi papi, e molti dei monumenti della città ricordano il loro passaggio. Cuore della città è Piazza Plebiscito, su cui si affacciano gli antichi palazzi della prefettura, del podestà e dei priori, oggi sede del comune. Grazie a tutti. Splendido e suggestivo è l'antico centro storico, un angolo di Medioevo perfettamente conservato, anche nell'aria che vi si respira. Grazie a tutti. 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 Ma il luogo più celebre è il Palazzo dei Papi, posto di fronte alla cattedrale. Eretto nella metà del 1200 come dimora dei pontifici, è sicuramente il più rappresentativo monumento gotico della città. Situata su un ripiano di tuffo tra le gole di due affluenti del Treia, Civita Castellana è una bellissima cittadina di origine medievale. Il sito è quello dell'antica Faleri Veteres, la capitale dei falisci, abbandonata nel III secolo a.C. e di nuovo ricostruita nell'VIII. Sul bordo della città una stupenda rocca si erge ancora maestosa. Fu commissionata da Alessandro VI a Giuliano da Sangallo nel 1494, ma fu terminata da Antonio da Sangallo il Vecchio. A pianta pentagonale, la rocca, sede di un bellissimo museo, conserva delle straordinarie intatte mura, costruite in funzione delle prime armi da fuoco da cui dovette difendersi un tempo. Molto interessante è il Duomo, soprattutto nella sua facciata, risalente al 1210. È preceduto da un portico su colonne architravate, ornate da bellissimi mosaici sempre del 200, opera dei marmorari romani Jacopo di Lorenzo e Cosma. Nei pressi di Civita Castellana visitiamo un suggestivo luogo archeologico, Faleri Novi. La città fu fondata nel III secolo a.C. in seguito alla distruzione della più antica Faleri Veteres, avvenuta nel 241 a.C. La città fu abbandonata nell'VIII secolo d.C. e ci mostra oggi uno dei maggiori esempi di cerchia fortificata romana. Le mura, infatti, si estendono per oltre 2000 metri e un tempo avevano 50 torri e ben nove porte. Oggi ce ne rimane una in ottimo stato, la Porta di Giove, presso la quale si trovano le rovine della chiesa romanica di Santa Maria di Falleri del XII secolo. A presto. Una recente campagna di scavi sta poi riportando alla luce preziosi reperti, fra cui i resti delle antiche strade e quelli di un teatro romano. A presto. 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 come consuetudine per le cittadine medievali su un colle, Nepi è un altro splendido esempio di storia dell'antico Lazio. All'ingresso della cittadina possiamo ammirare le grandi arcate di un acquedotto settecentesco che in parte contorna le mura. La città risale al periodo etrusco in cui si chiamava Nepet ed è dominata da un'imponente rocca, innalzata nel 1450 a partire da Porta Romana e trasformata successivamente dai Farnese. Nelle possenti mura medievali sono ancora visibili i tratti delle antiche mura etrusche. Molto importante in città il palazzo comunale che domina la piazza principale. Fu eretto da Antonio da Sangallo il giovane nel XVI secolo e terminato nel 1749. Poco distante a Castel Sant'Elia scopriamo un angolo incantato. In commersa in un grande e quieto bosco, una splendida basilica romanica, Sant'Elia, fondata nei secoli VII e IX e ricostruita intorno all'anno 1000, continua ad attirare folle di pellegrini attratti dalla pace e dalla grande suggestione del luogo. Facciamo un salto indietro nel tempo e immergiamoci in un'epoca fra le più suggestive e importanti dell'antichità italica, quella degli etruschi. In questa zona dell'Alto Lazio infatti si sviluppò quasi 3000 anni fa una delle più straordinarie e affascinanti civiltà italiche, gli etruschi. Un popolo che seppe davvero segnare un'epoca, costruendo una civiltà straordinariamente moderna per il tempo. Il loro amore per l'arte è rimasto mitico e in un certo senso ineguagliato, se rapportato al periodo in cui si sviluppò. Le loro concezioni e conoscenze dell'arte e dei misteri della vita ne hanno fatto un popolo amato e temuto. Il loro grande rispetto per la morte li ha portati a costruire il più straordinario museo sotterraneo della storia, dal quale emergono inquietanti e attraenti i vari aspetti della loro cultura e della loro storia. La vera grande necropoli etrusca si trova nella campagna a est dell'attuale città e comprende decine di tombe scavate in un arco di tempo che va dal VII secolo a.C. all'età ellenistica. Le pareti riportate alla luce ci mostrano forse la più spettacolare raccolta di dipinti murali dell'antichità. a.C. all'età. Conservati in maniera incredibilmente perfetta, pur dopo 2500 anni, i dipinti sono una straordinaria testimonianza dell'arte etrusca e del loro culto dei morti, che rappresentano scene di danza, di sport, di caccia e pesca, di scene mitologiche, ma anche di vita corrente, che sono una preziosa fonte di informazione sulla vita del mitico popolo. a.C. all'età. a.C. all'età. a.C. all'età. a.C. all'età. altri preziosissimi reperti sono conservati nel grande museo etrusco di Tarquinia, sicuramente il più importante museo del mondo dedicato all'antico grande popolo. a.C. all'età. a.C. all'età. a.C. all'età. a.C. all'età.C. all'età.C. all'età a.C. all'età.C. 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 L'abitato è dominato dalla mole di Palazzo Orsini, un grande complesso architettonico eretto tra il 1525 e il 1583. L'abitato è dominato dalla mole di Palazzo Orsini, un grande complesso architettonico eretto tra il 1525 e il 1585. L'abitato è dominato dalla mole di Palazzo Orsini, un grande complesso architettonico eretto tra il 1585. L'abitato è dominato dalla mole di Palazzo Orsini, La cittadina è diventata famosa anche all'estero per uno straordinario parco, che non ha eguali nel mondo, il cosiddetto parco dei mostri. Si tratta di un immenso giardino, creato nella metà del Cinquecento dal principe Pier Francesco Orsini, detto vicino, sol per sfogare il core, come soleva ripetere. Il parco è adagiato su un grande anfiteatro naturale e addobbato in maniera stupefacente, con un'infinita serie di statue scavate direttamente nelle rocce, e raffiguranti animali mostruosi e fantastici, figure mitologiche, colossi favolistici e grotteschi. Tutte le figure hanno simbolismi ora chiari, ora ambigui, in un contrasto di visioni e suggestioni che lasciano davvero il visitatore senza fiato. Grazie a tutti! Grazie a tutti!